Uno striscione per dire no alla violenza sulle donne con l'hashtag 25 novembre sempre. È la giornata contro la violenza delle donne quindi l'UISP da sempre è accanto alle donne ad ogni forma di violenza e ovviamente noi in questo momento non facciamo che altro che stringerci a tutte le donne che stanno vivendo momenti particolari. È bello vedere che in un contesto di questo tipo ci siano tanti uomini quante altre donne ed è bello che vengano sostenute, incentivate come magari non veniva fatto un tempo. È un segnale diciamo alle donne di essere forti, di combattere, di tirare fuori e di aprirsi. Lo sport per far sentire la propria voce, l'impegno per il mondo femminile, troppo spesso offeso. Ci vorrebbe un impegno straordinario nel 25 novembre per le donne afghane, per le donne dell'Etiopia che da un anno subiscono stupri da ogni parte in conflitto, per la situazione delle donne anche in Europa, soprattutto in Polonia, sulla violenza contro le donne in Italia che ha a livelli spaventosi. Ci vogliono leggi, buone politiche, impegni internazionali e anche educazione e cultura che parlino di parità e rispetto, quindi anche lavoro in area scuola.